Colpo di Millie Carlucci. Secondo quanto risulta Fan Week, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle, al Via sul Rai 1 a partire da sabato 10 marzo 2018, ci sarà Amedeo Minghi. Il cantautore settantenne dovrebbe ricoprire il ruolo di concorrente. In questi giorni la conduttrice sta snocciolando il cast del suo programma, che vedrà anche in questa stagione in giuria Iva Zanzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Il nome di Amedeo Minghi si aggiunge a quelli, anticipati nei giorni scorsi da alcuni siti specializzati come TV Blog, Davide Maggio e Altro Spettacolo, di Nathalie Ghetta, confermato ufficialmente durante una puntata dei soliti ignoti, Eleonora Giorgi, Cesare Bocci, Francisco Porcella, Stefania Rocca, Massimiliano Morra, Don Diamond Giovanni Ciacci e Jessica Notaro.